Vai Vai Avvicinavo? Si, è stata tutta una mia idea Nei lastiti, i miei lastiti da importare se non mi faceva di sopra di scoperta Ah, dai, dai. Puff, va a te! Va a te roba? ahahahah ahahahahah ahahahah eh cosa proprio la patria allora se ti provo io se vado ma te fa non capila più di questo no eh eh